Erano in modo con 1, 2, Polizai! Ja! State ascoltando a 90 gradi! Bene bene, sono arrivati altri messaggi, salutiamo gli amici anche in webcam e coloro che ci guarderanno su YouTube perché abbiamo messo i nostri filmati anche su YouTube, nel canale ufficiale di 90 gradi Ci racconta Carlo, 1989, dice La prima volta che ho rubato A 13 anni ho rubato una bottiglia all'autogrill in gita Subito beccato dal cassero e mi sono fatto una mega figura di merda Beh, in effetti sono momenti tristi quelli Fantastico Sì, no, in effetti mi ricordo anche un mio amico che aveva fatto una scena del genere avevamo 16 anni, anche lì in gita, sai, si vuole far vedere che si è fighi si ruba la cosa e poi, però c'erano anche i dispositivi di antitaccheggio ti mettono subito e fanno una figuraccia Eh, non l'ho fatto a posto, mi è caduto nella borsa Mi è caduto addosso Titti scrive La prima volta che ho baciato un ragazzo era un DJ A Titti, siamo qua qui, eh, non è che ce ne siamo andati A distanza di 40 anni? Non so Uno è sempre qua Uno è sempre qua E l'altro E l'altro è quasi pensionato, comunque anche lui Titti dice, fingevo sicurezza, ma in realtà ero impacciato e nervoso In effetti il primo bacio me lo ricordo anch'io Poi mi piacerebbe sapere perché la figura del DJ è così... Eh, boh, non lo so Attira, attira Ma lei ha mai avuto dei vantaggi dalla sua ru... Dalla mia? Beh, ti può venire al discorso, scusate Tutte lì a ronzare come mosche sul mio E vabbè Mi è piaciuto tra l'altro il nostro... come possiamo definirlo? Agente? Ah, sì Il nostro pubblicitario? Ma sì, diciamo così Il fratello della Marletto, cioè il Marletto Il Marletto Che mi fa... ah, ma il perotto tira ancora Sì, sì, no, tira ancora Gli ultimi colpi Gli ultimi... Gli ultimi... A cianca, come si dice Gli ultimi colpi con le gambe Dopodiché glielo e tagliano Se non è anche così No, beh, a parte gli scherzi Insomma, ci ha fatto molto piacere Diciamo anche due parole Perché non ne abbiamo più parlato Sembra che la cosa sia passata sotto silenzio No, è stata una bellissima serata Invece, salutiamo Albi innanzitutto Salutiamo tutto lo staff del Malibu di Savigliano Ci hanno ospitato e trattati come fossimo a casa Addio Infatti io andavo e prendevo le birre in frigo Come faccio a casa Dall'altra parte Ci sono trattati molto bene Ci siamo divertiti Abbiamo fatto una diretta Alcuni ci hanno anche ascoltato da casa Si è sentito molto bene E ci fa piacere Replicheremo di sicuro da qualche altra parte Anche lì magari più avanti Ringraziamo tutti coloro che sono intervenuti Mi ha detto Albi In confidenza Al venerdì era tanto tempo che non vedevo il locale così pieno Mi fa molto piacere Noi ci siamo divertiti, tra l'altro è stato di tutto riposo Perché montano lo studio mobile E noi mandiamo i due marocchini Allora, siamo arrivati alle 7 e un quarto Esatto, tutto da montare Le dirette iniziavano alle 21 Alle 21.03 eravamo in onda E noi abbiamo finito di montare alle 20.50 Lei ma l'ha già finita Mi stavo uscendo dall'orecchia Stavo mangiando ancora il primo boccone E io l'avevo già finita E pensi che io sono Uno che mangia lento a me Invece io contrario Lei mangia veloce e mangiava lento Perché voleva far lavorare me Brutto pezzo Va bene, ci ascoltiamo un grande disco Degli anni 90 Sicuramente canterete Ne siamo convinti Las Mestè Allora, vabbè Fallo partire 3-3-4-1-6-5-1000 Mancano 10 minuti Raccontateci la vostra ultima Prima volta Per l'ultima volta Io spero che quello che ho raccontato dopo Sarà la mia ultima volta Sì? Ma spero, mi auguro Ma la prima volta che se ne è fatta addosso Però se la ricordo Certo E non è stata l'ultima Questo è Giorgio Prezioso Las Mestè Let me stay Dedicato a tutti gli ascoltatori più fedeli di 90 gradi Tutti piegati a 90 Let me stay Per mettergli a posto la replica Sì 2-1 Zamora ha segnato Gostardo Che stronza Sì Manucio Sommati fanno 72 Cioè 7-2 Che è il risultato finale di Milan Manchester Metti un po' la replica Siamo qui in parte L'ho già messa? Ah sì già? Sì sì Andiamo Tortaferro Ah tra l'altro Luca L'ho sentito domenica Ci troviamo anche prima con lui nel pomeriggio Metà pomeriggio così Pianifichiamo Anche per lui Per quella roba lì Oh cazzo No la replica va a 22 minuti Che lo vai? Che due coglioni Dio canale E che ci geopolitini Ci troviamo Tipi O Dio A